serie b katy 24 25 6 giornata frosinone bari 0 1 punto ssc bari frosinone perde contro bari nella serie b frosinone perde contro bari nella serie b nella stagione attuale della serie b sabato si è svolto un emozionante duello tra frosinone ssc bari la partita si è giocata allo stadio benito stirpe di frosinone ed è terminata con una stretta vittoria per 1 0 per gli ospiti di bari ecco la traduzione del testo in italiano con questo risultato i giocatori del bari hanno messo in cassaforte punti importanti nel campionato in corso il ssc bari ha mostrato una prestazione solida e ha dimostrato fin dall'inizio di essere determinato a portare a casa i tre punti la squadra ha dominato il gioco e dopo diverse occasioni promettenti è riuscita a passare in vantaggio al 32 di minuto con un preciso tiro di fabio grosso di fans von bari erano euforici e festeggiavano il gol che ha influenzato decisamente l'andamento della partita frosinone ha cercato di rientrare in partita e ha avuto alcune occasioni per pareggiare tuttavia la difesa di bari ha tenuto e ha neutralizzato in gran parte gli attacchi dei padroni di casa in sbesondere del tourhüter gianluca fra botta ha mostrato alcune parate impressionanti che hanno assicurato il vantaggio per bari nonostante gli sforzi del frosinone per aumentare la pressione nella seconda metà non sono riusciti a creare occasioni chiare gli allenatori di entrambe le squadre si sono espressi dopo la partita sulle prestazioni delle loro squadre il mister del bari ha lodato la disciplina e lo spirito combattivo dei suoi giocatori che non si sono fatti intimorire dalla pressione dei padroni di casa ha sottolineato che la squadra ha lavorato eccellentemente in fase difensiva il che è stato decisivo per il successo d'altra parte l'allenatore del frosinone era deluso per le occasioni mancate e ha chiesto maggiore efficienza in attacco per ottenere migliori risultati nelle prossime partite complessivamente la partita è stata caratterizzata da intensi duelli e si è percepito che entrambe le squadre volevano raccogliere punti importanti nella lotta per le posizioni alte della classifica bari si è temporaneamente stabilito nella parte alta della classifica con questa prestazione mentre il frosinone deve continuare a lavorare per migliorare la propria posizione il ssc bari affronterà ora le prossime partite con molta fiducia mentre il frosinone dovrebbe trarre forza dalla sconfitta per apportare i necessari aggiustamenti tornare sulla strada del successo sarà la massima priorità per la squadra di frosinone per non perdere il contatto con la vetta domenica 22 settembre slar per la squadra di risposta